Ho fatto per tanti anni rappresentante di scarpe, di calzature e per andare nelle Marche a volte c'era il Curi illuminato e a volte guardavi il Curi e io allenavo in promozione in eccellenza e lo guardavi passando veloce. A volte ho visto delle partite di Serie A e quindi lo vedevi sempre come una cosa da raggiungere e poterti immaginare ora di allenarle e essere su quella panchina ed esserci arrivato attraverso il lavoro, il sacrificio, l'impegno, la passione è sicuramente motivo di soddisfazione. Sarà un campionato con grandi squadre, con grandi città ma Perugia non è da meno per la sua grande tradizione e quindi anche il Perugia farà la sua parte e questo ne sono convinto. Io in questo momento voglio pensare al Treseppe, a quello che devo fare e lavorare. Poi lo dirai in tempo il percorso che dobbiamo costruire insieme. Mi piace essere chiaro, qua non mi ha portato alla piena del tele, vengo da un percorso lunghissimo, di tanti anni e quindi vorrei determinare dove io posso determinare, cioè in campo con il mio lavoro. Parliamo di idea, a me piace un'idea di una squadra aggressiva che domini la partita e che rispetti i principi di gioco. All'interno dei principi di gioco devono essere esaltate le caratteristiche tecniche, tattiche, fisiche e psicologiche dei calciatori. Questa è la mia idea di calcio, quindi un calcio aggressivo è fatto di dominio.